Se ti serve un gruppo per giocare con qualcuno, fare glitch, scambiare o fare anche raduni ti ricordo di entrare nel mio gruppo Telegram, è il più grande in Italia, link in descrizione Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come avete detto dal titolo guida completa sull'officina che sarebbe appunto un nuovo business che hanno aggiunto su GTA Online con l'ultimo DLC, ho aspettato un po' prima di caricare questo video per informarmi al meglio è stato scoperto praticamente tutto, vi farò vedere proprio tutto tutto in questo video quindi mi raccomando ve l'ho diviso anche in sezioni, quindi mi raccomando prima di cominciare con il video come al solito lasciate mi piace, condividete con i vostri amici e iscrivetevi al canale mi raccomando importantissimo visto che siamo vicinissimi ai 200.000 iscritti quindi mi raccomando iscrivetevi se non l'avete ancora fatto visto che sto trattando e tratterò tutti quanti i contenuti di questo DLC quindi partendo subito troverete il nuovo business su Maze Bank, è con questa icona appunto prima di sbloccare queste icone ragazzi dovrete andare all'autoraduno che si trova al sud della mappa perché altrimenti non vi usciranno queste icone e questo qui ragazzi appunto è l'officina, il nuovo business il meno costoso costa 1.700.000, il più costoso costa 1.900.000 c'è differenza tra tutti quanti i business, adesso vi andrò appunto a elencare le differenze innanzitutto ragazzi se avete Twitch Prime avrete diritto a questa di Strawberry da 1.700.000 è gratuita quindi ce la potrete avere gratis, se non sapete come fare vi lascio il video tutorial in descrizione su come riscattare Twitch Prime per avere appunto questa appunto officina gratis in seguito ragazzi abbiamo anche quest'altra da 1.600.000 e ragazzi sono praticamente tutte quante in città cosa cambia tra un'officina e l'altra? semplicemente ragazzi ci sono tre modi per guadagnare con questo business il primo è facendo delle rapine o contratti che sarebbero delle missioni che pagano circa 150.000 dollari l'una in seguito abbiamo la possibilità di riparare le auto dei clienti e in seguito ragazzi abbiamo la possibilità di consegnare auto random speciali che ci spawnano sulla mappa la differenza tra le varie officine sta proprio nel fatto del riparare le varie auto dei clienti infatti ragazzi più costosa è l'auto officina più clienti avremo che porteranno a riparare le proprie auto e pertanto guadagneremo di più non vi aspettate guadagni stratosferici infatti è una specie di mezzo business passivo anche se alcune cose le dovete fare per forza voi quindi non è tutto quanto automatico infatti se leggete la descrizione di questa da 1.900.000 la più costosa vi dice che sta vicino all'autostrada quindi molte volte i veicoli si rompono e quindi tanta gente ha bisogno di assistenza per quanto riguarda le modifiche troviamo stile colorazione simbolo che sono le varie cose scegliete voi sono superflue per quanto riguarda il personale ragazzi abbiamo membro dello staff 1 e 2 semplicemente ragazzi questi due membri dello staff vi permettono di fare le consegne se avete i veicoli all'interno dell'officina quindi potete scegliere di consegnare i veicoli ai clienti una volta che li avete riparati oppure farli consegnare non è proprio utile come cosa comunque adesso lo andremo a vedere in seguito abbiamo l'alloggio personale logicamente per mettere il punto di respawn ve lo consiglio e il ponte sollevatore che sarebbe una specie di ponte extra visto che già ne avete uno all'interno dell'officina con cui quindi potrete riparare appunto due auto contemporaneamente quindi avrete più clienti andrete a spendere circa 3.6 milioni se comprate proprio tutto quello necessario se maxare al massimo andrete a spendere oltre i 5 milioni quindi non so quanto vi possa convenire quindi una volta comprata l'auto officina dovete fare l'allestimento l'allestimento vi darà quest'auto quest'auto sarebbe l'auto di 60 che è appunto un personaggio dell'officina con cui potrete fare i colpi se non avete altre auto del dlc perché ragazzi i colpi si fanno solamente con le auto del dlc quindi se non ce l'avete vi faranno utilizzare quell'auto innanzitutto per fare l'allestimento dovrete logicamente andare su questa lavagnetta che sarà vuota vi farà rubare quell'auto ed è una missione veramente semplicissima una volta ragazzi che avrete rubato l'auto avrete l'allestimento così come l'avete comprato quindi il garage, le varie colorazioni e tutto quanto la prima cosa che potrete fare ragazzi sono proprio i colpi infatti i colpi si avviano da questa lavagna come vedete dal video in totale ragazzi al momento se non erro di 5-6 colpi pagano circa 150.000 dollari l'uno 160 perché considerate che dalla paga finale 15.000 dollari se li frega Moodyman quindi insomma sono quei 150-160.000 dollari sono tutti quanti formati da due missioni di preparazione che sono veramente stupide e facilissime ci mettete neanche un secondo se avete l'oppressor e poi un colpo finale che è difficile perché ragazzi se non avete gli snack i nemici vi distruggono quindi rispetto al caio perico sono molto più difficili il colpo finale anche se è meno strutturato perché ragazzi si tratta di correre con l'auto e sparare insomma nulla di eccezionale tranne un paio tipo la rapina finale alla flica che insomma è più carina comunque i colpi vi ripeto sono facili l'unica cosa la rapina finale è difficile nella rapina finale potete utilizzare solamente i veicoli speciali nuovi che insomma sono usciti con questo DLC quindi che per ora sono 10 se non ce l'avete li potete comprare se non li potete comprare potete utilizzare il veicolo di 60 che avete recuperato con l'allestimento io per ora ne ho fatti 5 di colpi i colpi sono in totale al momento 6 in totale sono 8 pertanto 2 devono ancora uscire li aggiungeranno con i prossimi aggiornamenti settimanali quindi 2 non sono disponibili perché sono in totale di 8 colpi per ora ce ne sono solo 6 altra cosa interessante ragazzi come sono collegati i colpi con l'autoraduno quindi proprio la struttura quella lì pubblica semplicemente ragazzi come vedete con il livello di reputazione sbloccherete appunto delle funzionalità in più sul colpo quindi la possibilità di comprare un'imboscata, un complice, un diversivo oppure riparare il vostro veicolo perché fidatevi che vi distruggono con i proiettili quindi questo è come l'autoraduno è collegato ai colpi ragazzi quindi veramente utile se vi interessa come salire di reputazione ho portato il video in precedenza completando il primo contratto ragazzi sbloccherete la lavagnetta nera che sarebbe appunto la lavagnetta con i veicoli speciali questa lavagna vi appunto dà 10 veicoli che cambiano ogni 24 ore reali praticamente sono 10 veicoli che potete trovare sparsi per la mappa vi uscirà un pallino blu mentre girate per esempio con un'auto così a caso in sessione vi uscirà un pallino blu voi semplicemente salite sull'auto e la portate al porto e vi danno dai 20 ai 25 mila dollari poi dipende ovviamente se danneggiate l'auto o meno e una volta che l'avrete completato ragazzi alcune volte vi potrebbe sbloccare una maglietta quanto ho letto robe simili ma non è ancora sicuro però sicuramente in futuro implementeranno questa cosa per ora vi paga solamente in più quei 20-25 mila dollari per esempio io avevo una carbonizzare come vedete sono passato qui me l'ha sbloccata e via volendo potete anche rubare i veicoli che trovate sulla lista quindi se trovate un civile con per esempio una carbonizzare la potete rubare e ve la fa consegnare potete anche comprarli dal sito Legendary Motorsport e consegnarla però ragazzi sono buggate quelle cose quindi io vi sconsiglio di farlo io l'avevo comprate una volta uscito dall'auto officina mi dava appunto il messaggio che questo veicolo è idoneo per la consegna però non mi usciva il segnalino di consegna quindi finché non lo sistemano vi sconsiglio ragazzi di comprare e buttare soldi semplicemente girate in sessione se le trovate bene se no pazienza non sbloccate nulla di eccezionale semplicemente ragazzi vi danno quei 20-25 mila dollari in più bloccherete anche la possibilità di ricevere veicoli dei clienti come vi ho detto all'inizio del video quindi in base all'auto officina che avete comprato avrete un numero di clienti logicamente se spendete di più avrete più clienti poi ovviamente ragazzi non si guadagna tantissimo con questo business diciamo che si guadagna con le rapine anche se sono abbastanza difficili e un po' ripetitive un po' noiose però ragazzi se è una cosa in più insomma nulla di eccezionale però si può fare quindi come vedete vi arriverà l'auto di un cliente vi arriverà il messaggio di 60 che vi dirà appunto che c'è un'auto di un cliente all'interno dell'auto officina logicamente vi pagherà di più se mettete le modifiche che vuole lui però potrete anche improvvisare e mettere qualcosa extra perché c'è anche la possibilità che gli potrebbe appunto piacere e quindi vi potrebbe pagare di più modificata l'auto potete premere conferma e consegnarla avete due modalità di consegna o lo consegnate voi manualmente oppure lo fate consegnare da un membro del personale che sarebbero quei due tizi che abbiamo comprato qui ragazzi c'è proprio l'inutilità di quei due perché allora se voi fate la consegna manuale non è più un business passivo anche se non è già un business passivo perché voi dovete modificare per forza l'auto non è che ve la modificano quelli del personale quindi la dovete modificare voi poi ragazzi potete scegliere se consegnarla a voi oppure farla consegnare a quelli del personale se la consegnate voi insomma dovete guidarla e portarla nulla di eccezionale dovete logicamente stare attenti a non causare danni perché se causerete appunto danni al veicolo ve li scaleranno dal prezzo in caso invece di consegnarla al personale la consegna non sarà perfetta al 100% anzi nel 99% dei casi l'auto arriverà danneggiata quindi perderete soldi visto che anche se le modifiche costano zero avrete una specie di caparra da mettere avanti insomma quindi dovete anticipare dei soldi che poi vi verranno restituiti quindi come vedete in questo caso auto consegnata in condizioni perfette mi ha dato 60.000 dollari invece con quest'altra auto l'ho modificata e l'ho fatta consegnare a un membro del personale mi sarebbe dovuto arrivare il messaggio ma non mi è arrivato ancora quindi non so se si è buggato o meno comunque in ogni caso probabilmente ho perso i soldi e basta però ragazzi vi ripeto nel 99% dei casi va arriva danneggiata quindi è inutile veramente comprare il personale quindi ragazzi questa qui è la guida completa su tutto quanto ciò che dovete sapere insomma sull'officina spero che vi sia stato utile vi ringrazio la visione e noi ci vediamo al prossimo video